Buon pomeriggio a tutti e innanzitutto benvenuti. Siamo davvero lieti della vostra presenza. Saluto il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il Presidente di Ance Gabriele Buia, il Presidente di Anfia Paolo Scudieri, di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, il Presidente di Confapi Maurizio Casasco, il Presidente di Confimi Paolo Agnelli, il Vice Presidente di Un'impresa Giuseppe Spadafora e poi il Presidente di Confimpresa Italia Domenico Colella. Allora aspetti che non mi avevano aggiornato. Scusi, quindi è semplicemente un discorso di puntualizzazione dell'incarico. Il Presidente di Confetra Guido Nicolini, il Presidente di Conf Servizi Andrea Gibelli, il Presidente di Conf Lavoro PMI Roberto Capobianco, il giovane Capobianco, il Presidente di UCID Gianluca Galletti e il Presidente di Finco Carla Tomasi. Benvenuti a tutti. Con la vostra presenza oggi, questo pomeriggio, continuano i lavori e in particolare continua questo confronto con i rappresentanti delle forze produttive del Paese. Abbiamo scelto di dedicare questa giornata interamente ai rappresentanti del mondo dell'industria, con attenzione in particolare ad alcuni settori più colpiti dalla recessione che si è innescata in conseguenza dell'emergenza epidemiologica. Parlo della manifattura, edilizia, automotive, logistica, trasporti. Nella consapevolezza ovviamente che tanti altri settori sono stati toccati e qui continueremo a dedicare uno spazio dedicato già domani e nei prossimi giorni. Il quadro macroeconomico che abbiamo di fronte si presenta molto complesso. Eravamo consapevoli, abbiamo capito subito tutti, che questa emergenza avrebbe portato con sé alti costi, oltre che umani ovviamente che non potremo mai dimenticare, ma anche alti costi economici, alti costi sociali. Peraltro da un confronto che manteniamo sempre aggiornato con le maggiori autorità economiche nazionali, parlo della Banca d'Italia, parlo delle autorità europee e internazionali, come avete anche sentito pubblicamente, sabato è stato un grande confronto anche con esperti, economisti, e abbiamo anche derivato non solo alcuni aggiornamenti sui trend e sulle stime, molto negative ovviamente, ma anche convenuto sul fatto che l'incertezza che si è scatenata non può essere sciolta, non verrà sciolta certo nel giro di qualche mese. Lo stiamo rivedendo per dare il senso di quello che stiamo dicendo, basti pensare che con la riapertura delle attività, pensiamo anche a quelle vendite al dettaglio eccetera, non significa che si è innescato ovviamente un ordinario, si è ripristinato un ciclo, un circuito dei consumi rispetto alla situazione, allo status quoante. proprio questa mattina l'Istat ha pubblicato gli ultimi dati disponibili relativi al fatturato dell'industria del mese di aprile e sono cifre che ovviamente fotografano, se mai ne avessimo ancora bisogno, una congiuntura drammaticamente difficile. Il fatturato dell'industria è calato del 29,4% rispetto al mese di marzo, del 23,9% nella media dell'ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo di riferimento del 2019. Il calo congiunturale del fatturato è steso, lo sappiamo bene, sia al mercato interno che a quello estero e questo ovviamente raddoppia, diciamo, come dire, moltiplica l'effetto discesa, la caduta. E' una, anzi, è la crisi sicuramente più profonda degli ultimi, direi, degli ultimi anni, degli ultimi 70 anni, la più profonda della storia della Repubblica all'interno di uno scenario recessivo che investe tutta l'economia mondiale e che difficilmente risparmiera alcuni settori. Sì, ci sono dei settori ben individuati che sembrano, diciamo, più preservati da questo calo, ma nel complesso, diciamo, è una crisi che rischia di incidere severamente in maniera strutturale sulle catene del valore mondiale. La portata delle trasformazioni in atto, quindi, è veramente insidiosa, rischia di mettere proprio in discussione l'intero modello di sviluppo sino ora adottato. E la sfida, poi, principale che siamo chiamati ad affrontare durante la fase di ricostruzione delle nostre economie è quella di offrire una risposta economica che sia all'attezza della sfida, che possa sventare ogni minaccia di ripiegamenti anche autarchici. Noi siamo qui chiamati a salvaguardare e preservare il nostro tessuto produttivo, ma non solo, anche molto di più. La nostra economia, il nostro tessuto sociale, i sistemi di protezione che avevamo costruito nel corso degli anni, insomma, è in gioco qui il libero commercio, i sistemi libero-democratici. Veramente è la sfida più importante che stiamo affrontando. Ne siamo perfettamente consapevoli. Abbiamo reagito da subito e abbiamo messo in campo tante misure. abbiamo apportato con lo scostamento per 80 miliardi, abbiamo messo sul campo una risposta vigorosa con varie misure. Poi c'è stato anche una serie di altre misure che hanno avuto un impatto considerevole, se parliamo delle garanzie, per quanto riguarda le liquidità, delle garanzie di Stato, se parliamo anche delle moratorie. abbiamo cercato di intervenire, diciamo, a 360 gradi per preservare e proteggere la comunità nazionale, le nostre imprese, le vostre imprese e anche i cittadini. Ovviamente era impensabile, velletario pensare che tutte queste misure da adottare nel ciclo di qualche settimana, addirittura alcune, alcune addirittura dei giorni, potessero dispiegarsi a terra de plus en blanc, come dicono i francesi, così, di punto in bianco, quasi che potessimo, come dire, confezionarle per mesi, avendo pure la possibilità di risistemare preventivamente il quadro burocratico, l'assetto ordinamentale del Paese. Siamo ritrovati a fare interventi, per esempio, per la cassa integrazione che normalmente facevamo nell'arco di cinque anni, sei anni, se noi andiamo a vedere gli interventi che abbiamo fatto. Impiegavamo normalmente cinque, sei mesi e ovviamente per le urgenze e le necessità delle imprese siamo stati costretti, ci sono state aspettative di pochi giorni o comunque di poche settimane. Quindi è chiaro che delle criticità si sono rivelate, come anche, voi sapete bene, che anche per quanto riguarda la prospettiva della liquidità non è sufficiente disegnare un modello normativo perfetto, meno che sia, per carità, possiamo poi discuterne, ma di fatto puoi pensare che tutto un sistema articolato possa conformarsi all'unisono. Pensiamo solo alle piattaforme digitali, pensiamo anche alle modalità poi operative, alle mentalità anche che si radicate nel tempo presso le singole agenzie che incontrano il cliente e che dovrebbero conformarsi invece a un modello completamente diverso, di grande impatto, eccetera. facciamo noi ammenda per eventuali carenze che si sono e si stanno dimostrando, diciamo però che dobbiamo avere la consapevolezza che abbiamo l'umiltà di ammettere anche dei ritardi, degli errori, fermo restando che certo non possiamo essere chiamati a rispondere di carenze strutturali che il sistema Italia si porta da circa 20 anni perché diciamoci francamente se questo sistema Italia è da tanti anni ormai che per quanto riguarda il prodotto interno lordo, per quanto riguarda la produttività e al di sotto della media europea insomma evidentemente ci saranno dei problemi strutturali che si trascinano e che purtroppo in Italia non siamo ancora riusciti a risolvere. Però il tema vedete non è questo, non è piangersi addosso, non è neppure quello che però esiste, quello dell'attenzione, della vigilanza del governo nella messa a terra di queste misure e già nella predisposizione del governo a valutare quali saranno le altre misure su cui bisognerà intervenire nell'immediato. questo è un piano da cui non ci distraiamo neppure in questi giorni perché anche in questi giorni di intense giornate di lavoro e di confronto qui in questa gradevolissima residenza che esprime la bellezza italiana noi siamo anche con un occhio guardiamo a questo che i nostri uffici siamo in costante aggiornamento ovviamente per contribuire alla messa in terra di tutte le misure che abbiamo marato. nello stesso tempo però qui si prospetta anche un doppio binario abbiamo una responsabilità storica che altri prima di noi nella storia repubblicana non hanno mai avuto abbiamo la responsabilità storica di programmare anche e esprimere una visione strategica programmare quindi interventi di più ampio respiro e lo dobbiamo fare perché questo è il momento per farlo c'è stata una bella espressione devo dire richiamata anche un concetto caro anche a Keynes richiamato dal governatore Visco quando ci è venuto a trovare sabato e giustamente Keynes più o meno parafraso il suo pensiero diceva che per programmare nel medio e lungo termine bisogna già agire oggi perché altrimenti la programmazione già oggi siamo in ritardo voglio dire se vogliamo programmare e avere effetti per il medio e lungo periodo e di qui l'iniziativa del governo l'iniziativa del governo che ovviamente è un'iniziativa che parte dal contesto europeo dove ci avete sicuramente seguito siamo stati sulla linea del fronte quella più avanzata per rivendicare una risposta europea robusta coordinata una risposta vigorosa ci siamo battuti all'inizio quando i nostri omologhi lo posso dire perché è cosa nota i miei omologhi capi di stato e di governo la maggior parte di essi ritenevano che bisognassi aspettare addirittura per elaborare risposte quando invece ci siamo subito abbiamo subito manifestato chiarezza consapevolezza della portata di questa recessione e abbiamo invitato tutti a considerare che se avessimo tardato una risposta nell'elaborazione degli strumenti le cifre già basse che venivano quantificate ai tavoli sarebbero state moltiplicate perché è chiaro che non solo se tu ritardi la risposta le cifre che stai programmando non saranno sufficienti ma io ho detto di più saranno del tutto inutili potremo certificare se ritarderemo la risposta il fallimento del mercato unico dei pilastri dell'Unione Europea salterà tutto mercato unico scenge salterà la protezione del benessere dei cittadini europei e le imprese perché delle famiglie perché perché è evidente che non intervenendo uno shock simetico coinvolge a tutti ma chiaramente all'esito di queste macerie avremo dei paesi che avranno dimostrato una maggiore resilienza sono forti di uno spazio fiscale che non tutti hanno e a quel punto lì la frammentazione del mercato unico sarà così evidente che l'idea di Europa il consorzio europeo ce lo scordiamo non lo recuperiamo più per fortuna non abbiamo come dire declamato nel deserto perché da subito ci hanno affiancato altri otto stati e con loro abbiamo condotto questa battaglia adesso avete sentito venerdì ci sarà un passaggio molto importante anche se non determinante perché in particolare il recovery fund va collegato al quadro finanziario pluriennale non abbiamo ancora quindi i dettagli della negoziazione del quadro finanziario pluriennale la partita decisiva sarà a luglio ma attenzione è un'occasione storica per l'Italia in particolare lo è per tutti per tutti gli stati membri ma lo è ancora di più per l'Italia l'Italia deve in questa prospettiva assolutamente cogliere questa opportunità io dico sempre che la capacità di un paese la forza di un paese l'Italia l'ha dimostrato l'ha dimostrato storicamente quando ha dovuto affrontare una ricostruzione e è riuscita a tramutare questa ricostruzione in poco tempo se ci pensiamo in miracolo economico ma l'ha dimostrato anche quando all'inizio di questa pandemia eravamo gli untori dell'Europa vi ricordate che giorni credo ognuno di voi da cittadini italiani in quei giorni si è sentito avvilito quasi angosciato lei sta dicendo ma tutti siamo stati in questa condizione ci siamo sentiti tutti tutti italiani per un momento abbiamo pensato qui passiamo per gli untori d'Europa questa pandemia sembrerebbe colpire solo noi il danno di immagine che ne deriveremo sarà terribile terribile ci porteremo appresso questa pandemia che esplosa in questo momento solo nel nostro paese come una colpa nazionale poi è successo qualche successo e la comunità nazionale non il governo soltanto ma tutti hanno fatto la loro parte l'hanno fatto le imprese l'hanno fatto le famiglie i singoli cittadini l'hanno fatto coloro che hanno lavorato al fronte assumendosi immaginiamo quindi il personale medico paramedico le forze di polizia le forze della protezione civile tutti hanno fatto il loro compito hanno saputo affrontare con coraggio determinazione e senso di responsabilità questa anche coloro che sono stati semplicemente a casa soffrendo e hanno dovuto cambiare le loro abitudini e si sono sentiti relegati in casa senza la possibilità di uscire a testa alta adesso possiamo veniamo considerati in Italia in Europa nel mondo abbiamo attivato delle linee di intervento che ci sono state replicate dagli altri sono state copiate sono state assunte a riferimento c'è stato detto non sto dicendo qualcosa che come dire per vanagloria di chi vi parla c'è stato detto in questo momento però dobbiamo fare ancora di più siamo stati i primi quindi poi a uscire i primi che hanno affrontato in modo lineare con grande dignità e anche efficacia questa pandemia adesso dobbiamo essere i primi come stiamo facendo che affrontiamo il rilancio e la ricostruzione dobbiamo essere consapevoli che qui ci sono dei problemi strutturali se non li affrontiamo adesso difficilmente credo avremo a disposizione un'altra occasione e li dobbiamo affrontare insieme perché io l'ho detto questo governo ha la chiara consapevolezza responsabilità che non intende trattare queste risorse europee che verranno questi fondi come il proprio tesoretto sarebbe irresponsabile come atteggiamento assumere questa disposizione direi d'animo prima che operativa non è un tesoretto a nostra disposizione non è un vantaggio che questo governo ha mentre i governi che si sono succeduti negli ultimi anni tagliavano questo governo spende sarebbe assolutamente sbagliato affrontare questa prospettiva con questo atteggiamento di qui nei giorni scorsi abbiamo lavorato intensamente davanti a voi avrete vi è stato presentato un piano di rilancio è un piano di rilancio che nasce da una ovviamente un lavoro fatto da obiettivi anche programmatici di questo governo perché noi su questi obiettivi abbiamo preso chiesto e ottenuto la fiducia in Parlamento quindi abbiamo una legittimazione per quanto riguarda questi obiettivi che sono deriva dal punto di vista e si ricollega dal punto di vista temporale al passaggio alla nascita di questo governo al passaggio parlamentare di nuovo c'è che c'è un'esperienza ovviamente di governo già compiuta e c'è la pandemia che abbiamo affrontato c'è una nuova realtà economica e sociale che ci impone delle rimeditazioni dei ripensamenti e ci impone anche un colpo di reni di un colpo di reni e di elevare ancora di più il livello di ambizione della nostra azione quindi qui abbiamo una politica economica e sociale molto articolata avete davanti nella prima linea degli obiettivi programmatici che servono a descrivere il paese che vogliamo migliorarlo poi abbiamo delle missions sotto in eretto sono delle linee di intervento all'interno delle linee di intervento voi troverete tanti singoli progetti sono all'incirca 187 progetti tra missions e singoli progetti le abbiamo studiati insieme ai ministri abbiamo lavorato intensamente le abbiamo anche già condivisi con i gruppi parlamentari di maggioranza delle forze che sostengono questo governo quindi è già un lavoro ampiamente condiviso è una bossa ma una bossa già ben pensata la stiamo offrendo a questo confronto a tutte le forze produttive sociali del paese con cui ci stiamo misurando e ovviamente torneremo a offrirla anche alle forze di opposizione vogliamo da questo punto di vista avere un confronto ampio costruttivo se avete suggerimenti vi chiediamo suggerimenti su queste proposte vi chiediamo di esprimere le vostre valutazioni e anche le vostre critiche su queste proposte se sono critiche costruttive ci aiuteranno a migliorare questi progetti se sono critiche invece negative più radicali ci consentiranno di fermarci un attimo a pensare di valutare sarà uno stress test per valutare se davvero quel progetto riterremo di continuare a portarlo avanti di realizzarlo ma sicuramente ci torneranno in ogni caso utili quindi la preghiera che vi faccio è non ve lo chiedo adesso in questo momento nei prossimi giorni però vi preghiamo nell'ambito delle vostre rispettive competenze e sensibilità di farci pervenire delle osservazioni specifiche se volete poi al di là degli appunti che ci farete pervenire possiamo ritrovarci se volete in presenza spiegarci come perché ci avete fornito quei suggerimenti o ritenete che alcuni di quei progetti non facciano bene al paese detto questo da questo piano per il rilancio noi parallelamente è finito questa terminato questo ciclo di incontri già quindi alla prossima settimana perché non abbiamo tempo non abbiamo tempo vogliamo lavorare con la massima celerità e speditezza e concretezza quindi alla prossima settimana noi inizieremo a ricavare la versione diciamo finale ecco perché vi chiedo di farci arrivare subito le vostre osservazioni una volta ricavata la versione finale a quel punto lì e messo appunto quello che è il piano di rilancio del governo l'azione di governo noi andremo a declinare delle priorità ovviamente a dare una prospettiva diacronica a quei progetti dopodiché subito ricaveremo quello che sarà il più stretto il più circoscritto recovery plan italiano cioè quello su cui poi chiederemo i finanziamenti all'Europa che presenteremo compiutamente a settembre però voi dite settembre settembre non è lontano anche perché i progetti europei un progetto europeo che ho pensato costruito che deve presupporre anche di valutare bene la nostra capacità di spesa significa che va articolato per bene sul piano cronologico sul piano dell'impatto finanziario studiato per bene quindi qui non si tratta di presentare a settembre un documento buttato lì in Europa per avere dei fondi peraltro molto cospicui che si prospettano molto cospicui qui serve depositare un progetto che serve a noi paese su cui dovremo noi stessi misurarci con la nostra dignità e il nostro orgoglio nella capacità di realizzarlo io finisco voglio solo chiarire qualche pensiero così a margine di questo non so perché per come insomma leggendo dico anche qualche notizia di stampa e anche il dibattito un po' politico che si è sviluppato negli ultimi tempi sembrerebbe qualcuno crede che questo governo abbia un pregiudizio nei confronti della libera iniziativa economica allora questo a nome del governo voglio precisarlo molto chiaramente a parte che le misure che noi abbiamo elaborato e inserito nei nostri provvedimenti per buona parte anche consistente sono dedicati a sostegno delle imprese quindi sono misure che mirano pensiamo alle misure volte a favorire la capitalizzazione delle imprese che secondo la nostra diagnosi è uno dei vulnus dei motivi di fragilità tradizionale del tessuto produttivo italiano soprattutto se parliamo delle piccole e medie imprese che poi ci rendono primi in Europa primi in Europa però si può discutere ripeto sulle misure ma non c'è dubbio che ci sia una costante attenzione da parte del governo per il sostegno delle imprese in questo progetto che avete davanti tra gli altri adesso non vi sto a indicare le singole misure ma vorrei troverete anche una misura che il dottor Bonomi ci voleva rubare perché ho letto sul giornale qui c'è il piano di transizione 4.0 ma c'è anche il nuovo piano di transizione impresa 4.0 plus dedicato ovviamente a chi vorrà volgere le sue attenzioni e innovare in modo ancora più spiccato in modo abbracciando le nuove tecnologie digitali ancora più sofisticate dall'intelligenza artificiale blockchain una transizione green ancora più spinta quindi abbiamo vari lo dico perché l'altro giorno sembrava che volesse copiarci questo modello l'abbiamo già elaborato e allora quello che voglio dire è che non c'è assolutamente nessun pregiudizio ci mancherebbe per noi impresa che è un valore anch'esso costituzionale è un pilastro della nostra società è il tessuto produttivo stanno facendo di tutto per preservarlo se no avremmo elaborato altre misure produce crescita economica promuove sviluppo innovazione genera valore sociale quindi nessun pregiudizio a scanso di equivoci possiamo avere diversità di opinioni di valutazioni ci sta ci mancherebbe ci mancherebbe che intorno a un tavolo del genere con tante sensibilità tante posizioni dovessimo per lanzarla allo stesso modo ma qui non c'è nessuna remora culturale nessun pregiudizio ideologico noi riteniamo quindi che preservare l'impresa mettere in condizioni le imprese nella nella prospettiva di poter affrontare vigorosamente in modo riattivo in modo resiliente uno sciocco come questo e quindi il rilancio sia una priorità del nostro paese se no andiamo da nessuna parte e per essere ancora più puntuali condividiamo anche la filosofia riassunta nel vecchio motto principio di Milton Friedman per citare un economista considerato da quelli più ortodossi diciamo della linea classica tradizionale cioè per noi l'obiettivo di un'impresa è produrre guadagno un imprenditore che non affronta l'attività di impresa con criteri di economicità produce un guaio a se stesso e alla comunità disperde valore non c'è dubbio il fatto che qualche volta anzi spesso e costantemente ci sentite ragionare con maggiore articolazione di prospettive è perché riteniamo però che un'impresa non sia solo un'organizzazione di mezzi di produzione per produrre il guadagno legittimo ma sia anche una comunità di donne e di uomini che si inserisce in un contesto sociale e che ovviamente ha un impatto sul piano dell'ambiente quindi potrebbe a seconda di come si predispone agevolare una transizione ecologica o meno o contribuire anche in modo non appropriato a disperdere risorse che sono di tutti del pianeta e perché una comunità di uomini quindi è bene che investa e che sia incentivata a investire nella riqualificazione e la formazione costante e personale e quindi abbia anche tante altre premure che non devono distogliere ovviamente nella nostra concezione l'imprenditore dall'obiettivo primario che è quello di produrre guadagni svolgere il suo business ma nel suo stesso interesse queste altre premure gli consentono di affrontare anche un meccanismo e di avere a cura un meccanismo reputazionale che gli consentono poi di poter avere risultati anche nel medio e nel lungo periodo nel suo stesso interesse quindi siccome si è parlato spesso sui giornali anche per le nostre misure non abbiamo una concezione collettivista voglio chiarire una volta per tutte e direi come dire autorevolmente non abbiamo una concezione collettivista della produzione o statualista dell'economia non ci appartiene non è nella filosofia della linea politica economica di questo governo e vi aggiungo non accarezziamo neppure un modello cripto dirigista in campo economico non è questo il tema non aspetta a noi dire cosa dovete fare dove dovete andare il nostro modello rimane quello dicono i francesi il modello classico dell'età regolataire di uno stato regolatore che certo non è però disattento rispetto all'evoluzione dei meccanismi del mercato siamo pronti a intervenire a presidiare quelli che sono interessi strategici di qui il nostro intervento con la golden power siamo disposti anche a intervenire in punta di piedi per quanto possibile quando c'è da offrire un sostegno diretto nelle aziende quando i meccanismi di liquidità cosiddetti esterni non funzionano e c'è la possibilità di offrire equiti per un periodo illimitato senza voler ovviamente interferire nelle attività di governo dell'organismo produttivo siamo ovviamente ben orgogliosi permetteteci di dire che le nostre aziende partecipate sono delle multinazionali ce le siamo portate storicamente ovviamente le abbiamo ereditate non le abbiamo costruite noi ma dobbiamo anche dircelo le nostre multinazionali le nostre partecipate sono nella maggior parte dei casi delle multinazionali che ci rendono orgogliosi in tutto il mondo perché quando io incontro i capi di stato molto spesso mi vengono fatti i complimenti non solo per singole aziende che operano molto costruttivamente all'estero e contribuiscono a un altro punto di forza che l'export ma vengo anche come dire ringraziato per le attività delle nostre grandi multinazionali in alcuni settori da loro presidiati pensiamo al campo energetico riteniamo che le cose funzionino faccio un esempio abbastanza bene ma ripeto libera impresa libera economia e state tranquilli che avrete sempre tutto il nostro sostegno in termini di incentivi di attenzione per cercare di rendervi ancora più competitivi come è scritto lì in uno dei nostri macro obiettivi un tessuto economico più competitivo e resiliente quindi anche nel mondo susate questa lunga digressione però adesso la parola è tutta vostra grazie a tutti grazie a tutti